Mille secondi ... 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 non lo prese, venne buttato da una ruta, non morei, lo prese di nuovo e lo decapitarono stai prendendo a noi? Non ci provare già fatto queste sorte che gli è toccato queste sorte degli? che gli è toccato, quella della decapitazione ma ti ricordi pure, tanti santi non sono morti al primo tentativo ed era molto giovane, come aveva detto Bruno quanti anni aveva? 16 anni un ragazzino io pensavo di 5 anni era più piccolo questa capacità, questa sua santità che cosa è voluto ah che carina senti ma con questo puoi fare pure un filmino? si sto facendo un film tanto se... tanto se...